Lodovico, se l'Italia va in fallimento, che ne sarà del mio mutuo? Ho appena comprato una casa così bella, dovresti vederla! È tutta rosa! Averne immobile, se è un investimento sicuro, è meglio di comprare oro. Ah, come sei sexy, Lodovico! Quando dici la parola ORO! Dino, Dino! Ora c'è, lo metto timido! Dino, ho una grande notizia! Finalmente ho trovato la maniera per far fruttare i miei magri risparmi di lavoratore precario! Ho fatto come ti ho detto a me, investire in birra ormai è l'unico modo per avere dei rendimenti sicuri! Ma no, Dino! Pensa, esiste un investimento che rende più del 6%! Crompar casse di amarone? Sono i titoli di stato italiani, Dino! Ma sei tu fuori come una pergola, Ometto! Il esetto mi ha i giornali! Io ti dico che parla della bancarotta del stato italiano! Ma cosa dici, Dino? Proprio adesso che hanno alzato gli interessi per far guadagnare di più i risparmiatori italiani! Ma mi la mi spussa! Nessuno ti regala niente, Ometto! Se gli interessi sono alti, vuol dire che il rischio della ciavada è alto! Dino, tu non sei certo un esperto in economia! Aspetta qua! Guardaci che è! Lodovico, ti arriva giusto un tempo! Ciao, Dino! Come sei? Ah, non la va mia massa ben! Non sono mi abituato a piangere il morto chi! Ma i parla tutti del falimento! E' lo possibile che una nazione la fassa il ciocco! Non le miga la Olivetti! O la Parmalat! O l'alimentare dei cinesi sotto casa mia! Che il te vendè ai vasetti delle malattie! Bella domanda, Dino! In effetti, se l'impresa non è buona di pagare i suoi debiti, la fa bancarotta! Ma pare impossibile che un Stato non sia più buono di ripagare i suoi debiti! Beh, allora, se per il Stato è impossibile fallire, il può andare avanti così! Anzi, il può assumermi anche a me col stipendio dei parlamentari! Tanto, se il può spendere all'infinito... Noi spendere all'infinito, appunto perché adesso è possibile che un Stato il fassa il ciocco è di non essere buono di ripagare i propri debiti a chi che gli ha messo i suoi sparagni in titoli del Stato! Se il mio Lodovico fosse stato italiano, mi metteria a stampare schei di carta e pagare davvero a tutti! Adesso è proprio quel che capita a un Stato che si è accattato nei guai perché gli spende massa! Gli monetizza il proprio debito stampando schei ed è quello che gli ha fatto in parte anche i americani con queste crisi finanziarie! Ah, e perché allora Tremona non fa come i americani e si mette anche a lui in tipografia a stampare schei? Perché da una diesena di anni fa parte dell'euro e noi polpi stampa schei come chi faceva con le lire Non sta a loro di monetizzare, o lo fa la Banca Centrale Europea oppure seccata in braghe di tele Ah, se aspettano i cruchi che stampa schei per darne una mano? Stano freschi? Ma forse l'è meglio così! Dopo un cambio ne toccava cromparghe tutti i socrauti! Ma di fatti, in questa maniera, il Stato italiano è costretto a riformarsi o sarare bottega invece di adoperare la scappatoia della svalutazione Riforme? Ah, loro l'hanno e riforma niente! I sforma semmai! Gli è cento cinquant'anni che ne sforma il dedrio! In effetti, non va mia ben così! Il Stato italiano è come un panzon col colesterolo a 300 E il dottor che dice che se non perde peso fa un infarto Allora il panzon decide di andare a correre una maratona senza neanche allenarsi E così tal'infarto lo fa anche prima? Esatto! Per perdere peso, e cioè per far crescere l'economia Gli vuol passetti graduali, tagliando le tasse nascente alla volta invece che alzarle Invece esideri a operare come dei dottori medievali In misura la febbre, e allora i fa salassi per cavare il sangue caldo al paziente Ah, e ne cava proprio il sangue! Gli vuoi una flebo? Anzi, meglio che si idratiamo con un altro giro di birra, finché la dura! Ma cosa dite? Non siate così pessimisti! Io, quando mi alzano le accise sulla benzina, i bolli da pagare sui miei titoli di stato Sono fiero di contribuire per il bene della patria! Ometto! I tambri agade balotte! Allora, facciamo così! Mi sono stato tagliato! Anzi, mi sono stato desandrà! E ho finito gli scai per pagare da bere a tutti! Allora, ecco dottocchi di carta! Questi è BDD, i buoni del Dino! Mi te do questi e ti temi dei scai per do birre! Uno per mi e uno per Lodovico! Ah, io mi fido di te Dino! E voglio il meglio per il paese di Sandra! Bravo! Sandra che è una frazione della gran comunità economica del Castellò! Oste, do birre! Io sventolo con fierezza i miei bot e i miei BTP che tengono in piedi questo grande paese! Adesso, sul davanzale, insieme alla bandiera italiana, insieme ai bot, ci metterò anche i buoni del Dino! Ah, a proposito Dino, ora che le tue obbligazioni maturano, dovrai pagarmi gli interessi! Eheheheh! Ho te che hai reso un uomito! Ma prima che ti paga gli interessi, tirami fuori gli scai per altre tre birre! Ecco, ti do altri BDD, i buoni del Dino! Oste, tre birre! Una per Lodovico, una per me e questa per ti! Ometto timido! Questi gli interessi per il primo giro di birre! Oste, prepara che ne altre si intanto! Che le è meglio che behem fuori tutto! Prima che l'umetto contribuente chi e finisse i scai! Muzica Ma stud